E continuano a rimanere chiusi i teatri con le conseguenti difficoltà dei lavoratori del settore. Per aiutarli la cooperativa Ravenna Teatro ha deciso di destinare i contributi che riceve anche al loro sostegno, agli artisti. Su questo Giovanna Greco. Il teatro è un dialogo che deve avvenire nell'incontro proprio con l'altro in carne e ossa. Il teatro in streaming è una forma diversa ma appunto non la forma, non la destinazione e sicuramente non il senso che secondo me ha lo stare in scena. Spazi vuoti di attesa e possibilità. Col cuore verso le celebrazioni del 2021 per i 700 anni dalla morte di Dante, nasce qui il lungo cammino teatrale rispetto al divino poeta interrotto dalla pandemia. Nella chiesa monastica di Santa Chiara, costruita nel 1250, prende vita a fine 800 il teatro Rasi. In questo luogo poetico trova casa nel 1991 Ravenna Teatro, cooperativa che conta più di 30 dipendenti, centro di produzione teatrale che riceve contributi ministeriali, regionali e comunali. Con l'ultima chiusura ha cancellati una ventina di spettacoli in cartellone. È nostra responsabilità investire i denari che sono tutti, perché sono di tutti, sono denari pubblici, perché gli artisti non tutelati, gli artisti che non hanno finanziamenti pubblici, possano continuare a fare il loro lavoro e a creare e a pensare delle opere. Non solo Ravenna Teatro destinerà i 70 mila euro del fondo di emergenza del decreto rilancio ad artisti, spazi di ricerca e residenze. Non mancano i timori di chi sa cibare le nostre anime. La paura è quella che tutto un patrimonio, a partire dalla nostra città, ma per guardarla più ampio, il nostro paese, non solo, si disperda e non esista più, perché questa pandemia mette in crisi anche delle vite, dei lavoratori. Grazie.